Che cos'è un peso e una percentuale di altezza? Un percentile in termini di peso e altezza è un metodo per confrontare bambini e giovani adulti fino a 20 anni di età con altri nella loro fascia di età. Questo viene fatto allo scopo di tracciare i tassi di crescita e aiutare a indicare la salute generale. Permette anche ai medici di notare i modelli nella crescita del bambino, ad esempio, se lui o lei sta crescendo normalmente per un periodo e poi improvvisamente si ferma. Ci sono due diversi grafici percentuali di peso e altezza usati per tracciare questi dati. Il primo è per i bambini fino a 3 anni e un secondo grafico per bambini dai 2 ai 20 anni. La sovrapposizione aiuta a garantire che i dati siano completi. Le informazioni raccolte per i grafici del peso e dell'altezza percentile sono relativamente semplici. Oltre alle misurazioni del peso e dell'altezza previste per ogni visita del medico, il medico misurerà anche la circonferenza della testa nei bambini fino a 3 anni. L'indice di massa corporea, o indice di massa corporea, è incluso anche nelle misurazioni, anche se questo viene semplicemente calcolato usando l'altezza e il peso. Il medico prende quindi queste informazioni e osserva il grafico del peso e dell'altezza dei percentili per determinare dove cade il bambino rispetto agli altri bambini della sua età per ogni misurazione. Un bambino del cinquantesimo percentile, ad esempio, può essere considerato esattamente nella media rispetto agli altri bambini. Per esempio, un bambino del settantesimo percentile per altezza è più alto del 70% degli altri bambini della sua età. Questo tipo di informazioni può essere estrapolato per ogni misurazione per vedere dove cade il bambino rispetto agli altri. Esistono diversi grafici percentuali di peso e altezze utilizzati per i bambini maschi e femmine, poiché i loro tassi di crescita attesi possono essere molto diversi, in particolare nell'adolescenza. Sulla base di queste informazioni e dei tassi di crescita dimostrati tracciati nel tempo, un medico sarà in grado di formulare raccomandazioni per la cura del bambino e la sua dieta regolare e la quantità di esercizio. Se si verificano improvvisi cambiamenti nella crescita, il medico sarà in grado di rintracciare queste informazioni ed essere meglio in grado di determinare perché sta accadendo. Questa informazione cessa all'età di 20 anni perché ormai la maggior parte delle persone ha smesso di crescere. Sebbene ci siano tabelle di confronto di altezza e peso per gli adulti, che forniscono informazioni medie basate sul tipo di corpo e possono fornire linee guida generali per gli obiettivi di fitness, non ci sono informazioni percentili disponibili per le persone di età superiore ai 20 anni.